ciao ben ritrovato o ben ritrovata su cultura e lingua italiana oggi compito comunicativo svolgeremo insieme una parte della prova orale dell'esame celli 3 livello b2 la parte orale di questo esame consiste nella descrizione di una foto che diventa lo spunto per una conversazione tra te e l'esaminatore poi ti viene dato un brano e ti viene chiesto di riassumerlo e su questo brano ti vengono anche poste delle domande per ultimo il compito comunicativo ti viene fornita una situazione che dovrai svolgere insieme all'esaminatore il compito comunicativo di oggi è ha parcheggiato la sua macchina in doppia fila per andare in farmacia al ritorno trova una vigilessa che la sta aspettando per non prendere una multa le racconta che salve non mi ha fatto la multa vero buongiorno signora ha parcheggiato in doppia fila e la sto aspettando da più di dieci minuti cos'ha da dire a riguardo chiedo scusa ma oggi è davvero una giornataccia ho la bambina malata a casa con la febbre a 40 mio marito adesso è a casa con lei e dovrebbe essere al lavoro ho preso la macchina ho cercato di trovare un buco un parcheggio e non ho trovato niente a quest'ora alle 8 del mattino capisce per cui alla fine non trovando neppure un buco ho parcheggiato in doppia fila e sono entrata in farmacia sì ho capito però lei in farmacia è rimasta più di dieci minuti sì lo so però non immagina cosa è successo dentro la farmacia prima di me in fila c'era una signora che a quanto pare aveva grossi problemi di udito e il farmacista le ha spiegato almeno dieci volte come doveva prendere le medicine dopo era il turno di un ragazzo che per mia sfortuna era straniero e non conosceva l'italiano il farmacista conosceva poco l'inglese per cui per capirsi hanno impiegato un po di tempo quando è arrivato finalmente il mio turno ho preso velocemente questo sciroppo e sono uscita e da lontano vedo lei e mi dico no adesso mi sono anche beccata una multa e invece lei ancora la multa non me l'ha fatta vero no non gliel'ho fatta però avrei dovuto guardi per questa volta e solo per questa volta chiudo un occhio che non si ripeti più però va bene grazie mille lei è un angelo adesso vado corro arrivederci il compito comunicativo è la parte più simpatica della prova orale del celli 3 ti viene assegnato un ruolo diventi un attore e devi cercare di svolgere questo ruolo nella maniera più naturale possibile allora se a breve hai questo esame da dare un grosso in bocca al lupo da parte mia e noi ci vediamo nel prossimo video ciao